Benvenuti su questo nuovo aggiornamento sul Grande Fratello. Prima di iniziare, un importante avviso, alla fine di questo video, mostreremo l'annuncio scioccante di Giuseppe Garibaldi, quindi state con noi fino alla fine per non perderlo. Nella recente puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha fatto un annuncio sorprendente. Il concorrente calabrese ha dichiarato apertamente di non voler più fare passi avanti verso Beatrice Luzzi. Durante un momento di relax, parlando con Fiordaliso, Garibaldi ha spiegato la sua decisione. Ha detto che nonostante ci sia un sentimento, deve stare bene in primis. Ha valutato la situazione e ha deciso che forse è il momento di dire basta. Vuole evitare di passare altre giornate difficili nella casa. Dall'altro lato, Beatrice Luzzi ha deciso di affrontare Jill Cooper per spiegare il motivo della sua nomination. Sembra che la tensione tra i concorrenti sia alle stelle. Che cosa riserverà il futuro per Giuseppe e Beatrice? Sarà davvero la fine della loro storia o ci saranno ulteriori sviluppi scioccanti? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul Grande Fratello. Ed ora il video. Ma prima non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al nostro canale per non perdere neanche un aggiornamento e attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo alla prossima.